Non posso fare a meno di pensare a Giulia Cecchettin, una studentessa come voi, una giovane donna brillante, la cui vita è stata stroncata nel più brutale dei modi. Nessuna parola di conforto potrà mai riportarla indietro. Dobbiamo fare di più per le donne. Oggi migliaia di persone si sono riunite in un abbraccio che non ha confini e vi invito tutti a ricordarla non in un momento di silenzio ma in un momento di rumore con un applauso così forte da arrivare fino a Favola.